benvenuti a quarta di copertina una trasmissione che è una novità nel mondo degli autori dell'editoria e di tutti coloro che amano leggere amano i libri con l'occasione vi invitiamo a questa nuova idea di obiettivo news per parlare di letteratura di buoni libri di racconti e abbiamo qui con noi un personaggio canavesano che è Luisella Urietti quanto mai eclettica che ci porterà alla scoperta della sua passione per la ricerca del sé che lei ha trasformato in una vera e propria professione realizzando anche delle pubblicazioni che vi consiglieremo durante questa puntata innanzitutto siccome siamo in un momento un po' particolare legato all'emergenza del coronavirus ci teniamo a dirvi che le nostre registrazioni vengono effettuate in totale sicurezza tra me e l'ospite anche se il potere della tecnologia ci permette di camuffarlo in realtà è presente un plexiglass quindi le interviste avvengono assolutamente in sicurezza l'ospite viene accolto chiaramente in mascherina per una chiacchierata iniziale se anche voi volete venire a trovarci basta contattare obiettivo news troverete tutti i riferimenti su internet oppure contattare me direttamente via facebook diamo il benvenuto quindi in questa puntata a Luisella Urietti canavesana doc che però ha girato il mondo grazie alla sua passione per la scrittura e soprattutto per la sua attività che scopriremo essere non soltanto molto interessante ma anche molto utile in questo momento in cui molti di noi col cambiamento con le novità che sono state introdotte nell'ultimo anno sono alla ricerca di un nuovo equilibrio di un nuovo orizzonte verso cui dirigersi origini pontesi se non sbaglio allora intanto grazie per avermi invitata mi fa molto piacere e sono onorata di essere qua origini pontesi sì noi poi oltretutto canavesani insomma come te anche abbiamo questa nomea di essere dei grandi lavoratori perché i canavesani erano quelli che emigravano in francia e svizzera e quindi mi sembra che per quanto ci riguarda questa cosa sia esattamente così si rispecchiamo il dna siamo delle grandi lavoratrici sì sì sono nata a pon canavesi poi sono partita quando ho iniziato l'università e quindi mi sono trasferita a torino e di lì poi ho continuato insomma il mio percorso quindi con la laurea ho vinto la borsa di studio e ho frequentato il primo master in comunicazione di impresa in italia poi nel frattempo avevo insegnato insomma perché per mantenermi gli studi ecco diciamolo per chi è giovane ci sta ascoltando la tua è stata una strada tutta in salita anche se in discesa fisicamente perché da ponte geograficamente in discesa ecco ma in realtà tutta in salita perché tu ti sei mantenuta fin da giovanissima fin da adolescente agli studi hai scelto la tua facoltà hai scelto il tuo lavoro e quindi ti sei un po' creata da te insomma sì sì assolutamente io a 17 anni ho iniziato a fare la cameriera perché volevo andare all'università e insomma nella mia famiglia andava bene fare tre anni del professionale perché lì sono stata mandata e non ho potuto scegliere e quindi poi ho fatto quarta e quinta appunto pagandomi gli studi facendo la cameriera poi mi sono iscritta all'università e dopo il primo esame ho cominciato a fare delle supplenze tanto vero che ho insegnato un anno nella scuola media di Locano nel parco del Gran Paradiso chissà che ci sia qualche allievo e tutti i giorni però andavo a Torino perché dovevo frequentare quindi insomma è stato veramente un periodo della mia vita abbastanza intenso poi però tu sei arrivata a una professione seria importante sì sono arrivata ad una professione seria perché sono passata attraverso delle altre fasi perché allora io sono il mio la mia idea è quella di fare l'insegnante perché io sono allieva di una plure classe della maestra Maria Teresa Bono e che mi ha insegnato intanto l'amore e il rispetto per la cultura e se io oggi sono qua è sicuramente grazie a lei perché mi ha fatto amare i libri e avere rispetto per la conoscenza proprio che è qualcosa che permette il riscatto anche cioè anche il riscatto sociale, il riscatto umano quindi dopo la laurea sono entrata in una casa editrice dove ho trascorso 12 anni della mia vita sono entrata come aiuto redattore e ho chiuso diciamo la mia carriera editoriale come responsabile del coordinamento editoriale poi è successo qualcosa esattamente esattamente dall'ultimo anno in cui sono stata nella casa editrice allora intanto era un lavoro che mi piaceva io amo i libri e finire a lavorare in una casa editrice era per me il sogno scolastica una delle più note storiche in Italia ed era il sogno della mia vita nell'ultimo anno ho cominciato ad avere dei sintomi fisici avevo una tensione alla colonna come sai quando qualcuno che ti tiene e tu dici ma possibile che non riesco facevo andavo a nuotare camminavo io sempre sono nata in montagna sono sempre stata all'aperto per cui di conseguenza camminavo andavo in bici e nuotavo durante la pausa pranzo due volte a settimana insomma questa cosa non solo non passava ma aumentava poi a un certo punto la mattina ho cominciato ad avere una sensazione di non avevo più voglia di andare al lavoro nel senso sinceramente mi veniva da piangere la mattina ma non capivo come mai perché non c'era niente nella mia vita che giustificasse una simile reazione e così a un certo punto ho cominciato a chiedere ai colleghi ho detto ma c'è qualcosa che non va che cosa succede no ma va tutto bene va tutto bene insomma io non avevo questa sensazione avevo dei segnali del corpo che non erano avallati da nessuna da niente di razionale non c'erano non eravamo fallimentari non eravamo quindi a rischio né chiusura né di essere comprati ma io sentivo che c'era qualcosa che non andava secondo i buddisti il nostro corpo è il veicolo che ci adatta ad ogni vita per vivere su questa terra quindi un involucro grazie al quale ci interfacciamo e i sensi sono un po' il software di questo veicolo evidentemente il tuo software ti mandava delle informazioni ma io non capivo nel senso che mancando totalmente degli strumenti che avrei acquisito più tardi non riuscivo a capire ma non stavo bene e una mia amica certo un giorno mi ha detto ma luisella sai io conosco una signora che lavora col corpo non fa la massaggiatrice assolutamente ma lavora col corpo e io penso che potrebbe aiutarti e al 17 luglio del 2000 me lo ricordo benissimo ho telefonato questa signora un po' complicato perché aveva diversi appuntamenti sono dovuta uscire dal lavoro la casiditrice io ero gaugliasco cioè in mezzo al nulla quindi insomma lei era in centro torino è stato veramente complicato quando ho aperto la porta e mi ha guardato e mi ha detto ma luisella ma tu lo sai che il tuo mal di schiena non è un problema fisico e io sono stata affolgorata ho detto questa donna come fa a sapere qualcosa che non ho ancora detto quindi mi ha affascinata perché ho capito che aveva una capacità di lettura del corpo della postura anche del modo in cui parlavo insomma anche delle emozioni che provavo che io non capivo da dove originasse quindi per farla breve ho fatto delle sedute con questa signora e ho sentito che ho veramente cioè il corpo era molto teso poi alla volta ho cominciato a rilassarmi e man mano che si rilassava il corpo in qualche modo si rilassava anche la mente cominciavo veramente a chiedermi se volevo continuare a stare lì non era cambiato nulla la situazione rimaneva uguale ma io avevo stavo cominciando a prendere coscienza che il corpo stava dicendo un qualcosa che non era razionalmente comprensibile ma che io sentivo ed era reale quindi ad un certo punto questa signora mi ha detto guarda che questa scuola ancora aperta ci sono le iscrizioni c'è a Milano si tiene la selezione se vuoi andare telefono e così ho fatto sono andata mi hanno giudicato idonea sono tornata mi sono licenziata nove mesi di preavviso durante i quali ho cominciato la formazione come mental coach possiamo dire diciamo che non è solo è psicofisico perché c'è molto lavoro anche fisico perché il corpo perché si passa prima attraverso il corpo perché è più facile cambiare qualcosa nel corpo che cambiare una convinzione nella testa beh questo senso quindi le due cose poi in realtà vanno poi un po' di pari passo ecco tu sei anche la dimostrazione del fatto che la vita è fatta a fasi quindi ognuno di noi il percorso lo deve dividere a tappe magari tu pensi che quella tappa sia quella definitiva beh adesso ho trovato il lavoro sono serena ho i libri mi piacciono i libri libri scolastici per me che volevo fare l'insegnante del massimo e invece un'altra svolta questa svolta ci porta verso una professione che tu ami molto e che fai con grande passione per avere successo si dice che bisogna fare qualcosa per sé che porti valore anche agli altri benessere anche agli altri e io entrerei un po' più nel vivo di quello che fai perché qui parliamo di libri di scrittura e lo facciamo anche a diversi livelli perché oggi quando si parla di libri non è detto che si parli soltanto di volumi stampati ma si parla anche di volumi che possono essere anche ebook che possono essere nati o creati anche attraverso i social divulgati attraverso i social scusami volevo solo agganciarmi alla fase finale nel senso che dopo nove mesi di preavviso il mio primo giorno di libertà hanno messo in vendita la casa editrice quello che poi ho capito dopo con gli strumenti che ho acquisito stavo elaborando il lutto il corpo diceva Luisella questa situazione è finita non dipende da te perché la mattina del primo di febbraio del 2002 quando ho letto sulla stampa la UTEP perché facciano parte della UTEP in vendita a 100 milioni di euro era evidente che quella decisione era stata presa un anno prima e il corpo un anno prima aveva cominciato a mandare segnali il nostro navigatore interiore collegato al tutto ti aveva già avvisata esattamente e quindi il lavoro che faccio in realtà è questo è che insegno alle persone come leggere il segnale del proprio corpo come metterle in contatto con il proprio corpo perché spesso le persone sono scollegate lo sono stata io e proprio per questo ho avviato tutto un lavoro su di me perché normalmente in questi lavori prima di lavorare sugli altri si lavora su se stesse quindi di ricollegamento e di scelta anche come dicevi tu è finito un capitolo adesso se ne ha più un altro e così ho iniziato e quindi vediamo un po' i giorni nostri perché cominciamo dai giorni nostri per andare a ritroso in quella che è la tua esperienza da un anno a questa parte tutti siamo volenti o nolenti coinvolti in questa avventura di lockdown più o meno giallo, rosso, bianco e quindi dobbiamo un po' adeguarci e tu hai creato un appuntamento quotidiano il colibri che col suo becco può contribuire a spegnere un incendio e tu con delle piccole gocce quotidiane cerchi di aiutare le persone un progetto che è nato come post su facebook che piano piano sta diventando qualcosa di un po' più grande allora io ho qui la locandina si può dire addirittura quasi in esclusiva perché è un progetto che sta nascendo in questi giorni praticamente assolutamente quindi la locandina è stata creata appositamente per Obiettivo News per quarta di copertina assolutamente e noi fin da ora ti invitiamo a tornare quando il progetto sarà un po' cresciuto ovviamente parlaci un po' di questo adotta il colibri allora dunque partiamo dal 15 marzo del 2020 quando è iniziata l'emergenza sanitaria ho avuto una settimana dove un po' come tante persone non sono certo l'unica così un po' di sfasamento non sapevo cosa fare e soprattutto pensavo anche ai clienti che stavo seguendo in quel momento che si trovavano di punto in bianco senza praticamente una guida perché ovviamente non potevo più vederli il 15 di marzo quindi praticamente quasi un anno fa un mio amico mi ha mandato la favola del colibri e io ho avuto un'illuminazione ho detto come il colibri col suo piccolo becco porta tre gocce d'acqua ma se tutti gli animali della foresta lo fanno spengono l'incendio io ho cominciato a postare ogni giorno un articolo all'inizio in realtà era anche qualcos'altro nel senso che le persone erano a casa dalle 10 alle 10.30 io ho creato degli esercizi che ho mandato alle persone in modo che potessero anche un po' tenersi in allenamento e anche avere un obiettivo nella giornata perché una delle cose che penso più importanti in assoluto nella vita è avere un motivo per alzarsi la mattina ed eravamo talmente spaventati talmente stravolti talmente insomma impauriti che il fatto di avere la mattina un momento collettivo sia pure ognuno a casa propria mi sembrava veramente che fosse il modo in cui io potevo aiutare la gente perché io ero tormentata da questo nel senso di conosco tutta una serie di cose di strumenti ma adesso come faccio ad aiutare le persone se non le posso più vedere quindi di lì ho cominciato a postare ho creato un gruppo whatsapp ho cominciato a postare un articolo al giorno nel senso che prendo una frase dal web il colibri è un animale libero quindi di conseguenza le frasi possono essere di persone di varia natura possono essere religiose possono essere filosofi, scienziati, musicisti dopodiché faccio un commento personale e la calo un po' nella nostra realtà quindi fine del primo lockdown parlo con un mio carissimo amico Giovanni che è anche il mio grafico sono su le copertine e Giovanni mi dice luisella devi continuare ho detto ma la gente adesso non ti preoccupare tu continua e così ho fatto ho fatto fino a oggi quando il colibri ormai c'è al 14 di marzo del 2021 i colibri saranno 365 giorni quindi adesso ce ne sono insomma un po' di meno 300 e quante sono ecco l'idea cos'è di trasformare in che cosa? questa raccolta di goccioline di speranza di positività parlando con Giovanni che mi ha fatto appunto la copertina e con la mia webmaster Tiziana abbiamo pensato ho detto ma adesso cosa ne facciamo perché ormai c'è un sacco di materiale con un'altra ragazza che mi ha curato degli altri ebook mi ha detto ma lo possiamo trasformare in un ebook allora abbiamo costruito una squadra nel senso che noi abbiamo dato vita a questo cioè io ho scritto colibri Giovanni ha fatto quell'altra parte Tiziana fa la revisione e Francesca si occupa poi di creare l'ebook abbiamo lanciato adotta il colibri cioè oggi è il primo giorno che c'è la frase che hai fatto vedere tu prima adotta il colibri nel senso che il colibri ha più di 800 ore di lavoro volontario nostro vogliamo il nostro obiettivo è quello di cercare un'associazione un ente una fondazione che sia in linea eticamente chiaramente con questo tipo di pensiero e che lo adotti e che il ricavato poi venga devoluto a questa associazione fondazione o quello che sarà noi abbiamo fatto la nostra parte come il colibri abbiamo fatto la nostra parte adesso chiediamo che qualcuno lo prenda nel senso che gli metta un logo ma possibilmente non un logo vuoto cioè nel senso che qualcuno lo faccia volare perché quello che c'è scritto nella copertina cioè nella copertina nel flyer che ho fatto vedere prima il colibri ha 365 se leggi in fondo nella parte in arancione con i suoi 365 messaggi il colibri in realtà vuole volare nelle case per portare che cosa intanto è un messaggio di speranza io in questi prima di tutto il colibri ha aiutato me la mattina quando mi alzavo perché ogni giorno avevo un obiettivo e varie persone che ogni giorno mi scrivono dei piccoli messaggini ad esempio ma oggi l'ha scritto proprio per me questo messaggio quindi queste persone in qualche modo hanno usufruito di questo e l'idea che abbiamo anche con il mio insomma team è quella che il colibri continui a volare e a portare questi messaggi ad altra gente perché sono messaggi che un po' come quei libri che si aprono così a caso tu guardi e dici ah guarda quella cosa è proprio per me oggi e quindi abbiamo deciso di trasformarlo in un ebook per tanti motivi compresi anche motivi tra virgolette igienici perché in questa epoca covid un ebook diciamo che è più è più igienico è più igienico ed è meno costoso certo quindi chi lo adotterà quindi spero veramente un appello che qualcuno si proponga per adottarlo chi lo adotterà potrà mettergli il prezzo che vuole e il ricavato delle venti del colibri servirà per sovvenzionare altri progetti sociali quindi diciamo che il colibri ha questa sua attività il colibri ha un cuore che fa mille pulsazioni al secondo e dopo due settimane della nascita intraprendo un viaggio di 5.000 km ecco quindi direi che è attrezzatissimo per andare in giro e continuare a portare i suoi messaggi ecco se qualcuno ascoltandoci ha voglia di accogliere questo progetto di positività e di speranza come può fare per contattarti? Luisella Urietti su Facebook su Facebook perfetto ecco facciamo un altro passettino indietro nella tua attività e conosciamo invece un libro vero e proprio nel vero senso del termine un libro molto speciale perché è piccolo come formato ma grande come contenuti è concentrato il titolo è già un programma perché cambia la vita questo cuore di nuvola ha cambiato la tua di vita perché hai saputo ascoltare il tuo cuore e andare oltre una situazione che ormai ti andava stretta e tu in questo libro hai raccolto qualcosa di tuo e qualcosa che ti hanno lasciato i tuoi clienti i pazienti non so come chiamarli ma in realtà non essendo un medico devo chiamarli clienti ma in realtà sono studenti però studiano la vita studiano come ascoltarsi e imparano strumenti e poi fanno esercizi e fanno compiti quindi in realtà sono studenti e quindi tu all'interno hai messo a frutto chiaramente tutelando la privacy i dati di queste persone chiaramente i nomi di fantasia hai inserito tutta una serie di informazioni per cui io l'ho letto e vi posso garantire che ci si riconosce in alcune parti per cui ci si ritrova a dire ma anche a me è successo anche io mi sono trovata in quel momento e avrei potuto svoltare a destra o svoltare a sinistra o andare dritta e a seconda di quello che mi ha spinto a fare il mio cuore ho scelto in una maniera piuttosto che in un'altra ecco qual è la filosofia se c'è una filosofia alla base di questo cambiami la vita a te cos'è che di base ha cambiato la vita la prima cosa cui pensi un momento cruciale un momento in cui hai detto basta adesso è ora di cambiare insomma ho fatto prima l'esempio della casa editrice ed è stato lampante cioè il fatto di avere questi sintomi fisici forti non dolore però tensione a un certo punto era evidente che c'era qualcosa che non andava e come ho detto anche se non avevo gli strumenti a un certo punto un giorno deciso ho detto questa cosa deve assolutamente cambiare cioè io non posso più stare in questa situazione quando l'ho deciso avevo già un minimo di consapevolezza come ho detto prima quindi avevo già capito qualcosa in più ma spesso le persone vengono da me la consapevolezza non ce l'hanno o almeno da me viene chi ha quel minimo di consapevolezza che gli permette di capire che il suo disagio fisico ha una radice altrove perché se non ha questa consapevolezza probabilmente si rivolge magari non so a un medico o qualcuno che curi solo il corpo ecco solo il fisico allora il cambio a mia vita è uscito alla fine del 2018 in versione cartacea anche lui per certi versi è un prodotto anche che ha avuto un'evoluzione durante il periodo del lockdown perché il 21 luglio del 2020 è uscito l'ebook ed è appena uscito l'audiolibro perché adesso è audible ieri cioè insomma quando è l'altro ieri quindi l'audiolibro adatto a persone anche che possono avere una disabilità visiva e che possono quindi anche ascoltarlo esattamente quindi lui è declinato nelle tre cartaceo ebook e audiolibro in modo da andare a coprire insomma praticamente non dico qualsiasi tipo di esigenza ma insomma ecco magari c'è qualcuno che ci ascolta e dice sì belle parole però intanto io ho perso il lavoro ho perso la stabilità chissà cosa mi aspetta se voi leggete quanto pesa questo essere prigionieri di questa che poi è una gabbia mentale che ci siamo costruiti perché cent'anni fa quando sulle nostre colline vivevano di agricoltura di certezza ne avevano poche assolutamente ma forse per certi versi si viveva più sereni sicuramente ma è un po' questo libro è composto di sette capitoli tre sono su di me sulla mia evoluzione e quattro sono su quattro miei clienti studenti che hanno cambiato completamente la loro vita adesso hai detto mi hanno licenziato allora c'è un capitolo chi ha spostato il mio formaggio chi ha spostato il mio formaggio è un libro di Spencer Johnson un scrittore americano quello specializzato one minute manager eccetera quindi una persona che fa dei libricini piccoli ma molto intensi con un sacco di messaggi allora in quel capitolo chi ha spostato il mio formaggio c'è la storia di Ernesto Ernesto è un dirigente di una società internazionale che è stato licenziato da un giorno all'altro senza sua colpa cioè nel senso come intendo a volte uno pensa magari ho fatto qualcosa che non va no semplicemente hanno fusioni multinazionali insomma eccetera ed è uno che si è trovato praticamente a dover rientrare in Italia senza lavoro più vicino ai 60 che ai 50 insomma in condizioni ecco allora non dico se ce l'ha fatto Ernesto ce la può fare chiunque ma Ernesto è adottato di volontà perché il segreto del mio lavoro è che le persone che si rivolgono a me hanno la volontà di non hanno gli strumenti ma la volontà perché se non hanno la volontà ovviamente non sono insomma non sono disposti a dire adesso mi fermo mi metto in gioco e cambio vita e quindi faccio riassumo un po' perché è un esempio emblematico perché ripeto è una persona che ricopriva un posto di grande responsabilità e quando si è trovato senza lavoro veramente insomma è stato devastante ma Ernesto sei mesi dopo ha creato una sua società per lui l'obiettivo era quello di essere riassunto da altri cioè riassunto in un'altra società insomma all'estero eccetera facendo tutto un lavoro un giorno è arrivato da me e mi ha detto ma io non è questo che voglio io voglio qualcosa di mio e lì è stato immediato nel momento in cui lui ha deciso quello tre mesi dopo la sua vita era totalmente cambiata quindi come dire il segreto è la volontà il resto io in realtà è come se cucissi un abito sartoriale sulla persona il resto è individuale perché è vero che le persone possono avere storie simili ma le hanno costruite in modo assolutamente esclusivo per questo è così importante il lavoro individuale perché si va a toccare quelle cose che sono specifiche di quella persona ovviamente quello che io vedo nelle persone sono le loro qualità perché sono quelle che mi interessano perché su quelle che si fa leva poi ovviamente ognuno ha anche delle mancanze ma partendo dalle qualità si aiuta anche molto la fiducia della persona in se stessa quindi cambiammi la vita ma in realtà cambiatevi la vita cambiammi la vita perché in realtà è la domanda sottesa delle persone che vengono da me solo che io invece quello che faccio è che mi impegno a supportarle e a insegnare loro a cambiarsela da soli con strumenti eccetera ma prendendola in mano e avendo la responsabilità della propria vita assumersi il rischio come si dice esattamente ecco il tempo è tiranno perché noi abbiamo mezz'ora di tempo in questa trasmissione per poter parlare di iniziative in questo caso editoriali ma anche esistenziali e non a caso io ho scelto di ospitare Luise Lurietti un po' nelle puntate iniziali proprio perché siamo in un momento in cui secondo me c'è molto bisogno di positività di speranza e di forza per essere il colibri che porta la sua goccia per migliorare la vita degli altri e anche la propria perché se siamo persone felici rendiamo anche più facile la vita di chi ci è vicino tu ci hai portato un'altra anteprima che è questa e io ti chiederei di spiegarmi perché anch'io sono un po' nuova in questo senso in cosa consiste questo Marie Claire? allora intanto anche questo progetto è nato durante il lockdown io durante il lockdown ho lavorato cioè ho fatto tantissimo volontariato ma ho anche lavorato tantissimo in senso scrivendo allora Marie Claire ed Alta Emozioni è una collana di racconti che esce ogni secondo venerdì del mese ed uscirà per tre anni quindi ogni anno sono 12 racconti solo in ebook è una collana di racconti dove il personaggio narrante è Claire quindi una donna ed è una collana al femminile in realtà Claire sono io e al momento ne sono usciti due il secondo è Marie una donna invisibile che ho dedicato alla mia mamma che è scomparsa poco tempo fa e il secondo è il segreto del tempo sono racconti autobiografici passati attraverso la mia esperienza ma dove poi parlo anche di altre cose nelle quali molte donne secondo me si possono riconoscere perché quello del segreto del tempo è quello sulla percezione del tempo che è una percezione prima di tutto individuale il tempo non è quello che segnano gli orologi insomma il tempo sono anche emozioni ce ne sarà un altro sulla femminilità perché questo è un qualcosa che ogni donna alla quale ogni donna aspira io insomma sono una seguace di Simone de Beauvoir che diceva maschi e femmine si nasce uomini e donne si diventa quindi ogni donna ogni femmina diventa una donna attraverso un percorso quindi tante cose che ho scritto che riguardano me sono certe anche perché molte le ho sentite anche per le mie clienti donne che riguardano anche tante altre donne e quindi anche questo è in versione ebook e quindi di conseguenza insomma a un costo costa 89 centesimi al racconto per cui veramente anche il fatto di poterlo diffondere e anche lì sono come dire piccoli messaggi di speranza perché sono racconti su due o tre pagine sono anche veloci, agili, si leggono in fretta quindi si leggono anche su uno smartphone è stata una scelta, una scelta che chiaramente non sempre tutti condividono perché il cartaceo è sicuramente il suo fascino per me che ho lavorato in una casa editrice sicuramente ha maggior ragione ma il cartaceo è anche costoso, inquinante e lo sbiancante ottico che si usa per la stampa è un agente chimico insomma abbastanza inquinante per cui di conseguenza insomma è stata una scelta che ho fatto ma mio malgrado perché l'odore della carta è sempre qualcosa che fa piacere però insomma Ecco Luisa e Lurietti diamo un'informazione a chi ci segue, a chi ci guarda come è possibile acquistare sia il libro sia gli ebook sia le altre tue attività i tuoi tanti progetti a cui ti stai dedicando Allora dunque il libro, il colibri deve essere adottato quindi di fatto non è ancora nato cioè nel senso che è quasi nato nel senso che è quasi completato ma dal momento che si aspettiamo qualcuno che si faccia avanti appunto per adottarlo e per mettergli un logo quindi chiaramente non è ancora stato pubblicato Chissà che quarta di copertina serve Assolutamente guarda lo spero perché è un progetto a cui abbiamo lavorato con amore è con tenacia perché ogni tanto qualcuno mi diceva scusa ma perché oggi lo pubblichi ma tanto scusa anche se salta un giorno no perché io sono così, sono 365 giorni ed è uscito sempre e fino al 14 marzo uscirà perché è un po' la caratteristica poi anche nel mio lavoro le persone che si rivolgono a me io sono una che tiene nel tempo non che molla le cose e questo mi sembra per me molto importante un fatto di etica personale per quanto riguarda Cambiami la Vita e Marie Claire ed Alte Emozioni si trovano su Amazon sia in versione ebook sia appunto adesso l'audiolibro e anche il cartaceo che sto andando quasi in esaurimento ma poi insomma vediamo insomma per quanto mi riguarda chiunque può trovarmi perché insomma da molti anni sono su Google quindi c'è il mio numero di telefono in direzione e mail anziché semplicemente su Facebook col mio nome e cognome perché al mondo con Luisello Arrietti ci sono solo io per cui insomma non è difficile ecco diamo un saluto a chi ci guarda e in questo momento magari si sente invogliato a cambiare la propria vita dai il consiglio base per proseguire il cammino verso un nuovo orizzonte allora bisogna cercare di guardare dentro anziché guardare fuori cioè allora siamo in un momento in cui guardiamo molto fuori perché arrivano tante notizie e sicuramente molte cose è bene che le sappiamo ma cerchiamo di guardare dentro che cosa vogliamo perché questo è un momento di cambiamento molto forte ma nella storia ce ne sono stati altrettanti devastanti paurosi problematici economicamente difficili e ogni volta le persone che sono riuscite a sopravvivere in un primo tempo e a vivere in un secondo tempo sono le persone che hanno avuto il coraggio di seguire quello che a un certo punto sentivano perché c'è il momento in cui una mattina ti svegli e dici no questa cosa devo smettere di farla e devo avviarmi in quell'altra direzione anche se la mente dice ma no questa cosa è irrazionale ma attenzione il campo magnetico del cuore è 5.000 volte più potente di quello del cervello quindi di conseguenza il corpo arriva prima penso che dovremmo cercare di ascoltarlo e poi di avere il coraggio o di trovare il coraggio in qualche modo di seguirlo poi il napoleon il disegnava che nel momento nei momenti peggiori è proprio lì che si riesce a trovare l'energia per cambiare per proporre qualcosa di nuovo che cambia la tua vita e tutta la situazione quindi magari nel momento peggiore riusciamo a dare veramente quella svolta che non avevamo il coraggio di dare in altri momenti come è stato in qualche modo anche per me durante quest'anno e durante con tutte le difficoltà e con uno studio che ho tornato chiuso il 90% praticamente dell'anno esattamente quello che dicevi tu e c'è anche un'altra frase di cui mi sfugge l'autore che dice la creatività è la disperazione che mostra il suo lato migliore il segreto è poi fare della difficoltà un momento di crescita perché poi dal caos nasce indubbiamente qualcosa di positivo verso cui andare bisogna solo avere coraggio e cercare perché la cosa più difficile è che si resiste contro il cambiamento quindi cercare di diminuire la resistenza al cambiamento e accettare di sentire la paura che fa andando verso cose che non si sanno la cosiddetta comfort zone che ci lasciamo alle spalle esattamente sì bene allora io ringrazio Luise Laurietti che ha fatto con altri amici autori un po' ha dato il là a questa serie di appuntamenti con la letteratura con i romanzi con gli autori magari anche con la ricerca storica perché il range di argomenti che tratteremo in quarta di copertina e quanto mai vario e variegato vi invito con Obiettivo News a continuare a seguirci sia sul sito sia sui social perché tanti saranno gli ospiti che stiamo aspettando e tante saranno le sorprese e gli argomenti che vi proporremo se vorrete venire a trovarci ripeto in totale sicurezza perché in studio abbiamo un plexiglass che separa me dall'eventuale ospite potete farlo potete contattare Obiettivo News oppure direttamente me all'indirizzo email deborabocchiardococciolagmail.com oppure tramite facebook vi daremo un appuntamento ci sentiremo telefonicamente organizzeremo questa mezz'ora insieme per parlare di letteratura di romanzi di autori di progetti letterali ed editoriali quindi è un invito che viene rivolto non soltanto a chi scrive e ama la scrittura ma anche agli editori e a tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo oggi in questa situazione legata al lockdown sempre più spesso ci rivolgiamo a internet per far conoscere i nostri progetti stavolta usiamo internet anche per far conoscere le proposte editoriali i libri e i racconti io per oggi termino qui vi saluto e vi do appuntamento alle prossime puntate